Fuggiti o rapiti? Cominciate dai genitori. No, non dobbiamo parlarci per forza. O forse uccisi. Poi che fate? Gli sparate? Comunque scomparsi. Le possibilità di trovare qualcuno calano del 90% dopo tre giorni. E lui ha un talento unico nel ritrovarli. Hai imparato a medesimarsi in chi scompare? Aiutami a capire. Entrare nei loro pensieri. Cosa si prova ad ammazzare un uomo? Perché sei scomparso? E tu pensi di sapere il motivo? Mas Antonio. Sezione scomparsi. Prima assoluta prossimamente su Canale 5.